La grande adunata nazionale degli Alpini all'Aquila dal 15 al 17 maggio è un evento eccezionale che porterà nella città dell'Aquila decine di migliaia di persone. Ha un sapore particolare per il comandante del nono reggimento Alpini dell'Aquila, il colonnello Massimo Iacobucci, che da Abruzzese, di Avezzano per l'esattezza, da due anni al comando delle Pene Nere, si prepara a vivere questo eccezionale evento per la città e per i suoi Alpini. Una grandissima emozione, un onore e un orgoglio, sottolineo io, il fatto di comandare il nono reggimento Alpini, quindi il reggimento di stanza qui in Abruzzo, da Abruzzese, da Alpino-Abruzzese. Adunata vuol dire tanto, racchiude in sé mille significati, tra tanti anche quello della solidarietà. Sostanzialmente ha diversi significati questa adunata, il primo è il ricordo e la memoria, perché queste adunate sono fatte fondamentalmente per ricordare tutti gli Alpini che sono morti durante la prima, la seconda guerra mondiale, ma anche nelle recenti missioni di pace. Perché è compito nostro, degli Alpini in armi e degli Alpini in congeto, quello di ricordare i nostri caduti, cioè quelli che hanno dato la loro vita per la patria e ci hanno consentito di vivere in un'Italia libera e democratica. Secondo adunata nazionale degli Alpini vuol dire solidarietà, in particolare questa qui dell'Aquila è molto importante perché dopo il terremoto del 2009 molti Alpini dell'Associazione Nazionale Alpini sono intervenuti qui all'Aquila per partecipare alle operazioni di soccorso e all'operazione di ricostruzione. Colonello Iacobucci, non Alpini è stato a fianco dei cittadini aquilani nel sisma del 6 aprile e lo ha fatto anche in questi anni, ha continuato ad essere presente per qualsiasi esigenza della popolazione. Sì, il nono reggimento Alpini ha dato il suo contributo a seguito di quel tragico evento sotto due punti di vista. Il primo, diciamo, come ha partecipato immediatamente all'operazione di soccorso e qui vorrei sottolineare la duplice veste degli Alpini durante quel periodo. Da una parte erano loro stessi vittime del terremoto e dall'altra soccorritori. Questo per dire che loro, una volta che hanno messo al sicuro i propri affetti personali, i propri familiari sono rientrati in caserma e si sono messi subito a disposizione della popolazione locale per dare il loro contributo all'operazione di soccorso. Inoltre, il nono reggimento Alpini è stato impiegato nel corso di questi anni per quanto riguarda il controllo e la vigilanza del centro storico, la famosa zona rossa. Ed è stato impegnato fino all'anno scorso, al fine di evitare azioni di sciagallaggio. Questo per dimostrare che il nono reggimento Alpini, gli Alpini in generale, ma l'esercito è sempre presente quando si tratta di intervenire a favore della popolazione locale in caso di pubbliche calamità. La partecipazione del nono Alpini alla Dunata si concretizzerà con la sfidata di due compagnie operative e con la creazione al Parco del Castello della Cittadella Militare. Come nono reggimento Alpini il nostro contributo alla Dunata Nazionale degli Alpini riguarderà l'aspetto prettamente militare. Quindi saremo impegnati con ovviamente la bandiera di guerra e due compagnie che parteciperanno alle cerimonie della giornata di venerdì 15. Poi, allo stesso tempo, come nono reggimento Alpini, ma come comando truppo Alpine e brigata alpina taurinense, stiamo organizzando la Cittadella degli Alpini nella zona Parco del Castello, dove praticamente daremo uno spaccato di quello che è l'esercito italiano e in particolare delle truppe alpine. Quella marsicana è una componente molto forte all'interno del nono reggimento Alpini. Su circa 900 soldati presenti all'Aquila, il 25%, cioè 250 circa militari, provengono dall'area della Marsica. Inoltre vale la pena ricordare che il battaglione L'Aquila, militando nella brigata Iulia, fu uno dei più valorosi che si distinse negli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, composto in massima parte da soldati marsicani e aquilani.